Pensi sia difficile trovare gli ingredienti migliori per la tua attività nella ristorazione? Non più da quando c'è Bolognese! La ditta bolognese da oltre 30 anni rifornisce ristoranti, panifici, pasticcerie e servizi catering con i migliori prodotti alimentari provenienti da tutto il mondo. Scegli la qualità, la vastissima selezione di prelibatezze e la consegna a Celere che solo i nostri professionisti possono garantirti. Bolognese, tutto ciò che è buono!